Sono tornato su certe cose, perché appunto anche le arti marziali che praticavo vengono da un ambiente buddista, da una cultura buddista. E io mi sono proprio accorto di nuovo in realtà, perché anche quando mi sono approcciato all'inizio da ragazzino capivo già di cosa si stava parlando. Però poi l'idea che mi sono fatto io crescendo, cioè del mondo che un po' era cinica, un po' era misantropa, era anichilista, tutte queste cose qua. Cioè in realtà era solo quello ma in chiave negativa perché avevo sofferto tanto. E andando oltre mi ritrovo tantissimo nel pensiero buddista. E io chiedevo adesso, mi aspettavo, mi diceva, non so, un rapper americano, no, Buddha, non me l'aspettavo. Qual è il tuo rapporto?